No, risposte ancora non ne ho avute. Ho avuto degli incontri interlocutori con il classico vediamo e solleciterò nei prossimi giorni per avere delle risposte. Chiedere è lecito, ma rispondere non è solo cortesia, come dice il noto adagio popolare. È anche un dovere se la richiesta arriva da un consigliere regionale, in questo caso Pierpaolo Pietrucci, rivolto in primis all'assessore regionale della Sanità Silvio Paolucci, tra l'altro entrambi di maggioranza del Partito Democratico. E se soprattutto la richiesta, messa nero su bianco in una lettera aperta, riguarda il presente e il futuro di un ospedale importante come il Salvatore dell'Aquila, dove a sei anni dal terremoto si attende la ricostruzione di un'intera ala inagibile e dove ci sono pertanto reparti ancora ospitati nelle strutture provvisorie realizzate in occasione del G8, con i bambini che si vaccinano nei container. Pietrucci, nella lettera indirizzata anche al Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, e al Direttore Generale dell'ASL 1, Giancarlo Silveri, chiede lumi in particolare sulla tempistica dei cantieri della ricostruzione, per cui mancano all'appello 10 milioni di euro, e sulla realizzazione della centrale operativa del 118, con tanto di eliporto e parcheggio, per cui sono disponibili da anni 3,7 milioni di euro del Ministero. Infine, sull'acquisto di nuovi e indispensabili macchinari medici. Il recupero urgente del Delta Medico, il recupero dell'edificio 1, che consentirebbe di risparmiare i soldi che l'ASL spende di fitti passivi, circa 300 mila euro l'anno, che corrispondono allo stipendio di 10 infermieri, i locali migliori per l'oncologia, laddove opera anche l'associazione dell'Aquila per la vita, e soprattutto far uscire, acquistare i macchinari della PET definitiva, e soprattutto il macchinario del Da Vinci, che oggi è in dotazione per l'ASL di Chieti e Pescara, che sono le due ASL che fanno la mobilità attiva più bassa d'Abruzzo. E l'Aquila e il Teramo non hanno un Da Vinci, è una cosa insostenibile, e su cui mi batterò nei prossimi giorni e nei prossimi mesi.